Prima gli insulti, poi le botte. L'ennesima storia di violenza e danni di una donna, in brianza, vittima, una 53enne picchiata dal convivente. Era già successo. Stavolta però l'uomo, un 63enne italiano, è finito in manette. Lo hanno arrestato in flagranza di reato i carabinieri della compagnia di Seregno, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Seguito di una segnalazione di un codice rosso, i militari della stazione di Giussano sono intervenuti nell'abitazione della coppia. È stata la stessa vittima a trovare il coraggio di chiamare il 112 e chiedere aiuto. All'arrivo della pattuglia, la lite era ancora in corso. L'uomo, che aveva abusato di sostanze alcoliche, nonostante la presenza dei militari, ha continuato a inveire contro la compagna. Il 63enne poco prima aveva minacciato e percosso la donna, provocando le lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Era già successo in altre circostanze, ha raccontato lei ai carabinieri. Trovato in possesso di un coltellino multiuso e dunque anche denunciato per porta e detenzione di armi, per l'aggressore sono scattate le manette ed è stato condotto presso il carcere di Monza. L'uomo, le cui responsabilità dovrebbero essere accertate nel corso del successivo giudizio, dopo la convalida è stato scarcerato ed il giudice per le indagini preliminari di Monza ha disposto l'applicazione della misura del divieto di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla vittima, nonché di comunicare con la stessa attraverso qualsiasi mezzo.